ho trasmettito a tutti ecco qua adesso eh c'è sicuramente qualche secondo di latenza si arriva? si prova a switchare adesso un po' tra le varie schede tra le varie scene ora vedo la slide prova a switchare tra le varie scene adesso vedo il mio gatto adesso di nuovo la slide vuole provare a far scorrere le slide è lento non va avanti vedo sempre la prima questa fa non la cosa poi mi stanno per un attimo si vede il mio gatto ok adesso si vede guarda no 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 ah no perché quello non è l'audio è tutto di tante è vero è vero che ti ho detto una cazzata la proviamo a passare sulla regina è come se fosse cioè in ferita in ferita di 30-40 secondi aspetta adesso questo adesso dovresti vedere me storia? ma io ho fatto la storia come ha si e poi tra 30-40 secondi vedi me ma lo metti anche l'audio? si si metti anche l'audio si mette anche l'audio si mette anche l'audio vedi si sento 30-40 secondi fa questo è un modo come funzionava questo tipo metti in test stiamo facendo tutto tenet adesso dovresti venire di cellulare non vi è di cellulare non vi è di cellulare ma non vi è di cellulare non vi è di cellulare ok perché io il cellulare se mai stai mai si spacca male non vi è di cellulare non vi è di cellulare anche una bella lusso si guarda la tua non vi siete adesso vedo il cellulare comunque il flusso è normale se il fatto è spostato mi divisa da casa non se ne accorgi tu non devi aspettare no non avvicinare adesso qui è allora abbiamo fatto abbiamo fatto tutto allora adesso devi eliminare questo 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 si si ok ho Io credo che ci siamo così e andiamo bene. Va bene, noi ci presentiamo qua un oretto e un oretto e mezzo. No, io alle otto e mezzo. Un oretto e mezzo, le sette, a qualcuno. Stanno di più. Ci presentiamo qua ovviamente con un motorante a cucino e... Va bene. Allora, dal canale di Cuba, questo quindi... Allora, non vi la rilaspera.